Allora, scende un po' di clima e ci ambientiamo nel mondo delle fiabe. Ecco qui i personaggi della Walt Disney. Vorretevi lo spettacolo. Il mondo delle favole è sempre pieno di sorprese. Per stare al passo coi tempi, anche i protagonisti più famosi si sono modernizzati. Specialmente quelli che da più tempo abitano il mondo delle favole, non sono più quelli di una volta. Infatti hanno nuove amicizie e diverse abitudini. Sono i sette nati. Purtroppo l'età non permette loro di lavorare più con un gruppo. E sono quindi andati in pensione. Però, per fortuna di Biancaneve, sono stati rimpiazzati da altri sette nuovi nari. Che ora vivono nel castello con i domestici. Ma ecco che entra il primo. Sciffalo! Rotolo! Rotolo! Pionbalo! Scivolo! I due gemelli diversi, cuculo e saltalo! Pionbalo! E, in fine, il settimo nano, Pionbalo! 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 E Biancaneve, pensate che si sia sposata con il principe azzurro e che abbiano vissuto felici e contenti? In realtà, in questi anni, la bella principessa ha preso possesso del castello della matrigna ed è andata ad abitarci con suo marito Capitano Uncino e il guidato Maggiordomo Pinocchio. Per stare al passo coi tempi, Biancaneve ha ristrutturato la sua dimora e ha comprato l'ultimo modello di specchio magico. Ma andiamo a vedere cosa stanno combinando. Pinocchio, hai visto cosa ha comprato? L'ultimo modello di specchio magico con la connessione in internet. Però per connesserci a internet abbiamo bisogno della internet qui. Sì? Della internet chi? Ma chi? Della internet chi? Ah, internet per tutti. Ma no, Pinocchio, internet per Pinocchio e per Biancaneve. Ah, che no, che ti vengo, eh, Pinocchio. Digitare login. Me la costo a 88. Digitare password. Ce ne rentola se è una racchia. Cosa desideri, che madonna? Ma allora, vorrei vedere qualche video su YouTube, eh? Però prima vorrei sapere se anche oggi sono la più bella del reame. In realtà c'è una fanciulla che minaccia il tuo titolo. E nel primo mistero annunciamo l'annunciazione a Maria. Che sostinto. Guarda il mare quanto è bello. Spira tanto, senti me. Ti senti? È graziosa e di bell'aspetto. E da una voce che incanta. Ma come va? Non è possibile che ci sia una ragazza più bella di me? E chi ha questa sciagurata? Lady Gaga. Lady Gaga? No, non ci posso dire perché ci deve essere un errore. Lady Gaga. No, ma non è possibile, spero che ci deve essere un errore. Putro, putro, sfortunatamente così, mia padrona. Persino la sua pagina di Facebook ha più falsa della tua. Cosa? No, allora, come prima cosa la cancella delle amici di Facebook. Ma quindi, specchio, come posso fare per tornare alla più bella delle amici? Non disperare, mia padrona. C'è ancora una speranza per te. Se parteciperai e vincerai il concorso di Miss Reami 2010 che si terrà nel paese di Ca, 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 cala, calatebri, casate dopo tornerai a essere tu, 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 telecomandaglie, informazione riuscita. Attenzione, il numero selezionato è inesistente. Ad essere la più bella. Oh, ma allora c'è una soluzione. Perfetto, parteciperò a questo concorso. Però, Pinocchio, tu che sei mio amico da tanto tempo, cioè, dite la verità, tu che sei sincero, sincero, sincero. Ma è vero che Lady Gaga è più bella di me? No, tu sei molto più bella. Anzi, Lady Gaga sembra un maschio. Grazie, Pinocchio. Ma sei sicuro, sicuro, sicuro? Sicurissimo. Oh, grazie, Pinocchio. Allora, facciamo così, Pinocchio. Eh, prendiamo davanti. E poi partiamo per Cattenovo. Così vincolo il concorso di Miss Realti. Mi prego. Ok. Magari metto il vostro concorso, perché un uomo. Io, prima di partire, devo avvisare il tuo marito, che è da ieri sera che non si fa vedere, chissà dove è finito. Grazie. 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 Grazie.